Il nostro lago, là c'è lo stadio, siamo molto orgogliosi perché il Como oggi fa la prima partita in casa in Serie A ma siamo altrettanto orgogliosi di avere sul nostro lago Samuel Carugati, chef che ha deciso di tornare a casa in pratica ben tornato, anche se ormai è già qualche mese che al piazzetta di Cernobbio si può provare la tua cucina Oggi siamo qua per un motivo preciso, cioè l'Ecomo Design Festival, il festival e la cucina ormai sono molto legati Cos'è per te un piatto, un food design? È praticamente un'ispirazione, qualcosa che viene dentro, che la devi manifestare attraverso gusti, sapori ma anche sull'aspetto estetico E niente, oggi ci troviamo qua alle Serre dove per una settimana saremo ospiti del Design Festival Volevo ringraziare principalmente tutti i supporter che ci hanno allestito questa Serra in maniera magnifica E niente, adesso con un gran ritorno in Como, con la prima di campionato e sarà la prima di campionato anche per noi Con il ritorno di Samuel qui a Como dopo tanti anni a St. Morris, ricordiamo con un ristorante crone costellato Abbiamo acquisito una tappa culinaria in più, una panoramica cittadina che sta diventando davvero molto interessante E' proprio grazie a giovani come te che si sono formati in giro per il mondo che possiamo vantarci di questo Raccontaci velocemente il tuo percorso Samuel Il mio percorso nasce praticamente in casa dove la cucina era un manifesto di gioia nel trovarsi tutti insieme per mangiare Studi nel mondo all'alberghiero, esperienze in ristoranti stellati e non E poi grazie a una grandissima opportunità a St. Morris, al mio primo ristorante Dopo un annetto riceviamo la prima stella e abbiamo creato Connection, abbiamo trovato gente fantastica Abbiamo imparato da tutte le nostre iniziative, dall'amore che abbiamo per il cibo E adesso siamo tornati a casa, a Como dove fortunatamente abbiamo aperto Piazzetta Un ristorante, lounge bar molto easy, lo chiamo Dove potete trovare a 360 gradi una proposta gastronomica dal food, dal bere, dal vino Quindi siamo molto orgogliosi del nostro concetto, fortunatamente sta andando molto molto bene E niente E dopo ti chiederemo qualcosa anche sul futuro, ma intanto ti volevo chiedere che cosa c'è del territorio dove sei nato e che hai conosciuto nei tuoi piatti Beh, sicuramente il lago e le montagne, dove principalmente sono cresciuto Quindi stiamo lavorando principalmente in quella direzione Con i ricordi che abbiamo avuto da bambini e che vorrei ritrovare e stiamo lavorando in quella direzione C'è un ingrediente particolare a cui sei particolarmente affezionato? Beh, attualmente nel melun ci sarà il luccio che è uno dei pesci con cui andavamo a pescare io e mio papà e ci sono molto molto affezionati Mi piacerà proprio provarlo quel luccio con la cura appunto di Samuel Carugati Senti, prima c'è andato velocemente al futuro, non so se Piazzetta la reputi la tua destinazione o è un'altra delle tappe di transito? Diciamo che Piazzetta è l'inizio, mi limito a dire questo, poi vediamo cosa riserva il futuro, sicuramente non saremo passivi Intanto complimenti per il tuo matrimonio che è stato soltanto poco tempo fa Piazzetta, ricordate, in Piazzetta a Cernobbio con uno chef che sicuramente si farà ricordare quando uscirete per i sapori Grazie, una buona giornata e forza compi